Martedì 19 settembre ci troviamo a Treviso per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore dal titolo Edificio Impianto, metodi, soluzioni, materiali e progettazione nell'architettura del domani. 350 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tantissime le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato. È andata molto bene, i progettisti erano molto interessati alla nostra gamma produttiva soprattutto nella fattispecie Recycle, un tipo di materiale che si interfaccia in base anche alle loro esigenze quindi è stata sicuramente positiva la giornata. Recycle è un tipo di pavimentazione che ha una triplice funzione, una funzione che rispetta soprattutto l'invarianza idraulica per quanto riguarda la drenanza dell'acqua dalla pavimentazione, non crea isole di calore e in più riusciamo a stivare le acque per un utilizzo successivo per altri usi specifici in base anche alle esigenze del progettista stesso. Quindi fondamentalmente si relaziona perfettamente anche con l'aspetto del microclima. Tra l'altro voi avete anche tante altre soluzioni che nascono anche da collaborazioni con progettisti architetti. Sì esattamente ed è una linea della Favro 1 che si chiama Via Veneto. Frutto dello studio di interazione con gli studi di progettazione abbiamo creato dei prodotti in base anche alle esigenze del mercato oltre che alle esigenze dei progettisti stessi. Quindi rispetto per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per quanto riguarda l'aspetto design. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.